Massimo Bitonci, in merito alla questione legata a Silvio Berlusconi sul voto palese, qual è la posizione della Lega Nord? Ma quello che è stato deciso in giunta per il regolamento è certamente sbagliato, perché noi un mese fa avevamo detto chiaramente che volevamo il voto palese, ma il voto palese su tutti i provvedimenti, non dovrebbe neppure esistere alla Camera e al Senato dei voti segreti. Ogni deputato deve esprimersi in maniera chiara e trasparente. Certo che questa cosa, al sapore di una scelta fatta ad personam, è solo contro la persona di Berlusconi. Quindi noi non vogliamo fare avvocati difensioni di nessuno, però è anche vero che non si può fare un provvedimento solamente per una persona. I provvedimenti vanno fatti per tutti, quindi la giunta del regolamento avrebbe dovuto deliberare che da oggi al Senato non esisteva più il voto segreto. Perché avete presentato una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro Saccomanni? Perché è evidente, l'ha certificato per la Corte dei Conti e Banca d'Italia e anche le audizioni di oggi, che i conti da parte del Ministro Saccomanni e della ragioneria sono stati completamente errati. Io non penso che si possa fare la copertura di una manovra così importante per il Paese con dei calcoli che sono completamente errati, sia dal punto di vista delle entrate che delle spese. Il prossimo anno è previsto un aumento della tasi che può arrivare anche al 70% in alcuni casi. Chiediamo per questo, ed è una mozione che abbiamo presentato, raccoglieremo le firme anche degli altri senatori, una mozione di sfiducia individuale al Ministro Saccomanni. Non possiamo pensare che un Ministro sia a capo di un governo, soprattutto in un settore così importante come quello economico, finanziario, in un momento di così grave crisi economica, e lo faccia in maniera così incompetente.